Il gusto sardo della pizza. Con questo claim, Emiliana Scarpa, detentrice del titolo italiano come pizza chef vinto a Napoli nella scorsa edizione il premio Sorbillo, si è presentata ad Hamburgo con una pizza tutta sarda. Insieme a Giovanni Cauli di Oristano hanno portato avanti quello che è la conoscenza non solo dei prodotti ma anche del territorio della Sardegna. Classificandosi seconda ha sfiorato anche il titolo europeo che comunque la porterà il prossimo ottobre a Roma per i campionati mondiali. È stata abbastanza difficile, molto competitiva e poi una realtà che non mi aspettavo perché sono stata l'unica donna a partecipare. Gli ingredienti che hai portato ad Hamburgo per rappresentare la nostra Sardegna? Gli ingredienti sono stati appunto praticamente sardi, tutto sardo, dai formaggi alle materie prime come l'anguilla fumicata, la salicornia, lo stinco di maiale e il beverage. Quindi tutti i brand sardi ad Hamburgo, un secondo posto che dove ti porta alla prossima avventura? La prossima avventura sarà un mondiale, World Cup, ottobre a Roma.